Non l'ho capito, com'è che hanno fatto a contarli voi Amiri? Te l'hanno spiegato a te? Come hanno fatto a contare le foglie, i fiori? Chi li ha contati non si sa? Mi capite, io che è una parola gioco che ho detto. Ma quel fiore lì di prima? All'inizio hanno fatto vedere che li contano. Non c'è un po' di numeri e non basta, ma chi è che la città è? Sono proprio contento di fare, che vi ha portato la torta in Santa Rita. Ma che è, non c'è, non c'è la città. Cari la città, non c'è la portata. Grazie a tutti.